Cavalli, biciclette e auto si incrociano nel parco delle Cascine, dai vecchi mezzi di locomozione alle ultime novità a quattro ruote. Come si immagina la mobilità del futuro? La immagino come deve essere per Raval, che è una società che nasce in Toscana e ha radici profonde in Toscana, con un'integrazione forte fra quello che noi curiamo, che è l'automobile, e gli altri mezzi di locomozione che lei ha citato, che sono la bicicletta e i cavalli. Quindi riuscire a far vivere il parco delle Cascine, ma tutta Firenze, insieme all'amministrazione comunale, fortemente sensibile in questo momento ai temi della mobilità sostenibile, proprio in questi temi di grande sostenibilità. L'obiettivo è ridurre le emissioni, facilitare il transito e riavvicinare le persone ai valori veri, che sono il rapporto con l'ambiente, il rapporto con gli animali e certamente anche il rapporto con le nuove tecnologie, che sono quelle che ci permetteranno un futuro migliore. Grazie. 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 Grazie.